Una festa per i più piccoli, un evento informativo per le famiglie. Questo è stato Bim Bim Fiera, ospitato per due giorni alla Fiera del Levante di Bari, una vera e propria full immersion in cui imprese web hanno fatto squadra per aiutare le famiglie a conoscere le novità del mercato attraverso punti informativi, ma anche il gioco. Ci hanno pensato fisici e chimici della cittadella mediterranea della scienza di Bari attraverso il gioco ad illustrare, con alcuni esperimenti di notevole impatto per grandi e piccini, i diversi principi utilizzati in numerosi prodotti di largo consumo, soprattutto nel settore del nursing e del benessere personale. Così, davanti ad un pubblico attento e a tratti sorpreso, è stato effettuato un esperimento che vede la trasformazione di un liquido che cambia colorazione mediante l'introduzione di un secondo liquido nel primo, a dimostrazione della facilità di produzione di prodotti realizzati nel campo biomedicale come colliri e lenti a contatto. Così come, attraverso il gioco intitolato cresco a vista d'acqua, è stato mostrato come una polvere bianca contenuta in un bicchiere assorbe una gran quantità d'acqua, espandendosi sino a traborcare dal bicchiere stesso. All'intrattenimento per i più piccoli sono state affiancate consulenze gratuite per le mamme da parte di esperti in neonatologia, dell'età evolutiva e in ostetricia. Con le biblioteche pediatriche del Policlinico, invece, si è pensato all'intrattenimento per i più grandi. L'evento Bimbi in Fiera, assicurano i promotori, ha raggiunto l'obiettivo prefissato, quello di informare ad un consumo consapevole.